eccomi qui a riregistrare questa quinta parte del corso che mi erano dimenticato di attivare allora oggi parleremo di come il computer diventa moderno si riparte dalla apple che per molto tempo è stata una fonte di innovazione in particolare del progetto lisa abbiamo già visto appunto che la presentazione la scusa puntata del mac in testa parte di steve jobs ma in realtà la apple dopo aver importato tutte le varie scoperte da parte scoperte dalla xerox aveva progettato un computer più potente almeno sul design e poi di quella che sarà poi il macintosh ma anche in realtà più lento perché doveva fare più cose insomma era un vero e pro una vera e propria work station alla fin fine e ovviamente steve jobs aveva cominciato a metterci a dire la sua e quindi a un certo punto lo estromettono completamente dal progetto lisa perché come diceva appunto mike marco la tendeva a disgregare le compagnie in cui lavorava quindi almeno così raccontano perso lisa comincia a girellare nella apple scopre che nel frattempo jeffreskin aveva portando avanti un piccolo progettino di un computer molto più piccolo più o meno pretenzioso dell'isa di nome appunto macintosh e ci si fiondò sopra e cominciò a imporre la sua volontà in particolare il macintosh doveva essere come sempre stata la filosofia di steve jobs un elettrodomestico visto che normalmente non si aprono le lavatrici e non si aprono i frigoriferi per metterci sopra pezzi aggiuntivi allora neanche il macintosh doveva essere aperto infatti mi ricordo quando lavoravo in una ditta apple che c'era una pinza apposta per riuscire ad aprire il case del macintosh per poterci lavorare dentro tra l'altro nella parte interna del case ci sono le firme impresse proprio nella plastica di tutti quelli che hanno lavorato sul progetto e sono invisibili bisogna proprio aprirlo per vederlo e quindi il macintosh era un piccolo cellino perché era così piccolo e faceva tantissime cose e bisognava scrivere i programmi in maniera accurata non è che fosse come diciamo poi saranno le wall station bene proprio in in cui i programmi ognuno fa lo scrive pensando solo al programma stesso i programmi qui dovevano in qualche maniera cooperare tra di loro però mi ricordo appunto faceva il boot da flop in nove secondi sul flop ci poteva stare il sistema operativo anche un editor tipo wright è uno un editor piccolino e anche qualche file poi ovviamente se no ci volevano un paio di flopini o comprarsi il lettore aggiuntivo e una delle specialità appunto di del macintosh è che per cui steve jobs in sette parecchio era di avere gli angoli dei vari rettangoli che fossero arrotondati e in effetti poi si distingue diciamo da tutti gli altri proprio a prima vista proprio per via di questa caratteristica un'altra caratteristica del della filosofia apple è di fare vendere le macchine a molto abbastanza del prezzo di costo in modo da potersi permettere campagne promozionali visto tutti gli apposto a come sono fatti o anche poter investire nello sviluppo però diciamo non è che poi il macchina ci fosse la rivoluzione per tutti anche se mi ricordo tanta gente entusiasta però alla fine riuscirono a buttare fuori steve jobs e quindi poterono finalmente tempo aggiungere memoria primo macchina c'era 128 k di memoria invece poi dopo queste qui non c'erano le limitazioni del di windows si poteva aggiungere altra memoria e le cose diciamo fondamentale è che se si poteva mettere su una piccola rete locale apple talk che era un semplicemente un cavetto telefonico è molto diverso per questo da dalle reti rg 45 che abbiamo ora perché anche lì sono la trasmissione sempre su due doppini quindi sempre come su un cavetto telefonico è solo che qui appunto erano tutti erano connessi con tutti quindi le collisioni rapidamente prendevano i sopravventi quindi non è che si poteva collegarci più di tanti computer però si poteva collegarci la laser brighter che tra l'altro aveva lo stesso processo quello che mi ricordo per esempio è che c'erano i dipartimenti di fisica mi sembra a ginevra dove il computer più potente in realtà che c'erano in tutto dipartimento ma insomma nel gruppo di lavoro era proprio la stampante per cui le persone scrivevano le simulazioni nel linguaggio della stampante che è il post script un vero e proprio linguaggio di programmazione non è semplicemente un linguaggio per descrivere come mettere i pixel sulla stampante e però venne fuori praticamente per il macintosh che il suo mercato di riferimento in questa fase era quello del desktop publishing ma come appunto mi ricordavo nell'ottantacinque steve jobs fu licenziato e se ne andò a forma a fondare poi la next che ora tra un poco li vedremo ora le stampanti laser appunto sono un'invenzione geniale che come al solito viene fuori dalla xerox anche se poi vennero ovviamente copiate in particolare la laser bright e credo che fosse fatta dalla canon e l'idea è abbastanza semplice ma geniale c'è un uso materiale il selenio che si è illuminato di una radiazione di lunghezza d'onda appropriata emette elettroni e quindi rimane carico quindi l'idea che con il pennello laser si carica diciamo questo cilindro di disegna dopodiché questo cilindro passa su il toner il toner che è una polvere di plastica e nerofumo essenzialmente quindi sappice al al cilindro il quale poi lo scarica su un foglio di carta poi passa su un forno che viene questa chiusa che viene quindi dove la plastica viene fusa e quindi il tutto si appiccica sulla carta e poi ci sono diciamo vari dispositivi per la lama per raccogliere l'eccesso di toner e poi dopo va scaricato però questo era il funzionamento e queste stampanti avevano un'ottima risoluzione almeno quando erano pulite a tutt'oggi tutte le fotocopiatrici oggi come oggi non sono altro che degli scanner e delle stampanti la appunto una delle applicazioni come si è già visto per i one lab che era parecchio richiesta era riguardava l'office automation ovvero una combinazione di sistema di scrittura da eventualmente uno spreadsheet eventualmente un database a cui poi si aggiungerà anche una presentazione il power point per esempio della microsoft ora l'apple 2 aveva appunto apple works che poi fu portato su macintosh dove appunto che era formato una volta fatto diventare un sistema a tutti gli effetti grafico era diventato mac right ma che trovo ma che pente per disegnare così via viceversa nel mondo dos si rimaneva a caratteri esistevano vari sistemi appunto per emulare in qualche maniera il sistema finestre per esempio framework mi ricordo usava i caratteri speciali del come cui si vede questo qui per esempio i caratteri speciali del del set esteso di dos per disegnare le finestre che si potevano anche spostare per caratteri ovviamente e appunto ci siano varie suite framework era uno un'altra symphony poi ovviamente a un certo punto per fare un preview prima della stampa si poteva anche passare nella modalità grafica che però di solito era parecchio lenta le schede grafiche erano fatte con poca memoria per cui non era così facile disegnare tutta l'interfaccia su un sistema grafico era molto più veloce usare i sistemi a finestre anche perché la risoluzione delle schede grafiche era particolarmente bassa e però c'era una certa esigenza ovviamente di di avere qualcosa di meglio per esempio programmi di disegno come autocad oppure l'equivalente di page maker che era ventura publish e in realtà l'attari aveva già fatto un sistema come si vede qui prettamente grafico non era niente di nuovo insomma la sul mondo cpm c'era il gem che era a tutti gli effetti simile a un'interfaccia grafica di oggi anche perché appunto in questi due sistemi c'erano altri chip che non erano quelli della intel ma erano essenzialmente quelli motorola e quindi chip più potenti e gemme portato anche su dos però windows ancora non c'era e quindi diciamo il dos si vendeva essenzialmente a caratteri entra dentro a questi questa rivoluzione anche l'ibm con delle ottime macchine il ps2 con hanno cambiato praticamente tutto c'era l'interfaccia per il mouse e la tastiera diversa un basso interno e micro channel estremamente più efficiente in cui potevano praticamente convivere più processori e appunto hanno inventato le schede plug and play che non avevano bisogno di essere settate ma appena inserite veniva letta la memoria e quindi c'era da si poteva leggere la configurazione del sistema e anche qui il tutto era scalabile si partiva da quelli piccolini si poteva andare fino a quelli più grandi chiaramente potevano essere integrati con i loro mainframe e il problema è che queste macchine e il sistema operativo os2 che era stato previsto richiedevano un pochino più di risorse in particolare più memoria e inoltre come al solito è un errore diciamo che l'ibm è fatto varie volte non erano pronti del tutto quando furono lanciati e per l'appunto si beccarono anche una fluttuazione del prezzo delle memorie che per un momento salì e quindi non favoriva la vendita di queste macchine che già erano fatti meglio erano anche più costose insomma dei cloni da battaglia che si potevano trovare infine nel sempre nell 85 un anno diciamo di grande ebollizione nasce l'amica della commodore un computer io non l'ho mai usato ma mi hanno detto tutti bellissimo come come sistema operativo grafico molto dotato per la per la musica costava abbastanza poco addirittura si poteva con qualche trucco faccia girare programmi insomma il sistema operativo di macintosh spero la commodore è un grandissimo casino come aveva già fatto altre volte la qualità delle macchine e varie scelte scellerate dal punto di vista della aziendale che c'era sì che alla fine miga venne venduto si cercò di di rimetterlo devi venderlo in altre salse ma insomma diciamo la commodore fallì e anche la miga è scomparso appunto si diceva che a seconda delle fasi del mercato ci sono delle applicazioni killer che è o meno delle suite di applicazioni che sono quelle che portano avanti il mercato per il macintosh c'era appunto il desktop publishing basato su photoshop su page maker illustrator e word della microsoft faceva un ottimo world grafico per il macintosh e un world a caratteri per il dos con steve jobs fuori dai piedi la apple poter diciamo cambiare la linea come vedete cominciarono a sfornare macchine più simili in fondo alle pc erano macchine si potevano aprire in cui ci si poteva inserire le schede si potevano estendere però diciamo dal punto di vista dei design e forse lasciavano un po a desiderare nel sempre nell'ottantacinque esce l'ottanta 386 che è un vero chip a 32 bit dei workstation la sun per esempio ci fece proprio una workstation e quindi diciamo usare il dos su queste macchine potenti che potevano indirizzare tantissima memoria mentre il dos era limitato a 640k anche se c'erano tutti i trucchi per usare la memoria estesa insomma non era per niente comodo e alla fine diciamo la macchina si decise che c'è uscire windows 1.0 che era terribile che aveva finestre che non si potevano sovrammettere e poi windows 2 non credo che sia neanche quasi uscito alla fine rilasciò windows 3 insieme a excel che era diciamo l'evoluzione del loro spreadsheet che multipla pensato proprio per ammazzare completamente un 2 e 3 che vendeva molto bene excel era stato fatto essenzialmente diciamo il contatto windows era stato fatto essenzialmente per excel lo si vede andando a leggere anche manuali del sistema operativo che tutti gli esempi erano fatti con excel e anzi addirittura quando uno installava excel rimpiazzava delle librie di windows così che tutto windows funzionava molto meglio se non si comprava la suite microsoft credo che poi ci sia stato anche un processo per questo qui e inoltre poi il fatto che lo sai visto che è stata fatta l'intel permetteva di eseguire i vecchi programmi dos in una scatola come diciamo qualche maniera fornendo a ognuno di loro una memoria compatibile di quelli dos e appunto la microsoft in questo momento ci ha ripreso due staff perché lavora con l'ibm però s2 e parallelamente sta lavorando per conto suo per uscire uscire windows e anche le versioni successive di dos perché non è che ha smesso subito dopo poco uscì dos 6.0 era un dos veramente avanzato e anche perché windows e ancora girava essenzialmente su sul dos e in cui cominciò anche la pratica della microsoft di fare una politica per cui quando c'era un'applicazione che funzionava praticamente si presentavano dalla ditta e dicevano o ce la vendete a un prezzo ragionevole oppure noi ne sviluppiamo una compatta siamo simili che fa le stesse cose e vi si leva dal mercato questo è successo con stacker visto che a quei tempi i dischi ancora costavano tanto uno magari aveva una disc che ne so da 10 mega o da 50 mega allora se si riusciva a ridurre le dimensioni dei file un i file potevano essere compressi molto facilmente per esempio quelli di testo si poteva appunto facciano essere di più nella stessa disc e quindi stacker faceva essenzialmente questo lavoro nella mercados del punto zero venne compreso direttamente nel sistema la possibilità di comprimere tutti i file tra disc e quindi stacker uscì completamente di mercato e nel 91 finalmente la microsoft comincia a avere i ricavi sostanziali dall'applicazione office excel word powerpoint e mail tutta roba era stata sviluppata in qualche maniera su macintosh rispetto a quelle del sistema operativo inoltre visto che in fondo l'unico prodotto originale forse excel insomma ma se no era il basic lo riproposero facendolo diventare visual basic che era anche diventato e lo era tutt'oggi il linguaggio per automatizzare certe funzioni in excel word powerpoint eccetera eccetera anche oggi ancora oggi se uno prende excel e vuole inventarsi qualche no nuova funzione deve svilupparla in visual basic il grosso problema portato da windows e realtà anche da macintosh è quello che non c'è come nelle workstation la differenziazione tra utente normale e super user super utente nelle nel mondo di unix o anche in quello vax essenzialmente ci sono una serie di privilegi per cui per esempio nel sistema operativo per installare nuovi programmi nuovi file eseguibili ci vuole l'autorizzazione la sistema l'utente può tutt'al più mettersi 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 questi file eseguibili nella propria cartella ma questi file non possono assolutamente alterare nei file di sistema né quelli di altri utenti quindi la diffusione di un virus è difficile perché i virus come funzionano entrano per esempio se uno allega un programma a un messaggio di posta elettronica e chi lo riceve lo esegue oppure più facilmente uno scarica del software piratato che ha dentro un pezzo di codice che appunto il virus o ci sono anche oppure per esempio ci sono alcuni virus che stanno nel settore di boot dei floppini e se uno si dimenticava il floppino inserite poi spengeva e poi accendeva il pc questo tentava di partire prima di tutto dal floppino in questa maniera dava occasione al virus di entrare quando entra un virus in un computer lui cerca altri programmi eseguibili altri file eseguibili di altri programmi e copia se stesso o oppure un'altra versione di senso ma come vedremo nel nel codice eseguibile in maniera che quando viene eseguito quel programma esegue anche il codice del virus qua a sua volta copia se stesso in un altro file e quindi in questa maniera i virus si possono diffondere all'interno del computer e poi se sono fatti bene possono cercare di infettare altri floppini oppure oggi come oggi o meno fino a poco tempo fa potevano infettare le chiavette usb cosa fanno questi virus normalmente quello che fanno di copiarsi e questo già o avere le conseguenze nel senso che i file diventano più grossi e computer si dentro e possono anche portare altre periodo che possono aprire una back door per cui è quello che si vede fare anche in war games non da un virus è però anche lì c'era una back door ma perché dove dire un sistema per cui un quasi chiunque può prendere controllo o almeno entrare a cambiare le informazioni di un computer di fare qualche cosa utilizzando una porta appunto di direte lasciata aperta oppure può copiare informazioni codici carte di credito e così via e mandarle via oppure l'utilizzo più recente e forse quello più criminale è quello di crittografare i file e poi chiedere un riscatto per la decritazione e mi ricordo per esempio sarà stato qualche decina di anni fa tutti i computer di tutte le associazioni di volontariato vennero attaccate da questa ransomware e dovete anche pagare a volte di loro noi quella diciamo dove facevo volontario dove gli avevo messo se stato su il sistema diciamo di backup no perché perché negli altri casi il backup era molto semplicemente un disco condiviso in cui si poteva copiare tranquillamente i file e quindi anche il virus poteva tranquillamente andare lì e cambiare i file io invece avevo fatto un sistema per cui il disco si poteva solo inviare file ma non accedere agli altri file memorizzati sul disco in maniera che ovvero uno lavorava sul disco poi a notte lui copiava tutti i file una porzione non accessibile dall'utente e così che uno al limite perdeva il lavoro di una giornata quando il virus lì cretava il file ma non non riusciva il virus a affettare tutti i file già memorizzati e quindi questo è come funzionano più o meno i virus i virus in realtà possono infettare qualsiasi programma eseguibile anche se non è un vero e proprio programma che qualsiasi file eseguibile anche se non è un vero programma per esempio può ci sono virus con i visual basic che infettano per esempio i file di office come word o excel e così via e la cura è quella di cercare dei pattern e caratteristici del del virus molto in maniera molto simile a quello che si fa con i virus negli organismi e quindi in qualche maniera ci sono gli anticorpi che riconoscono questi pezzi e la reazione da parte dei virus è quello di sviluppare sistemi di mutazione di variazione in maniera da nascondersi non farsi trovare dagli antivirus è un'altra rivoluzione negli anni database relazionale ovvero di memorizzare le informazioni come maniera molto simile a delle tabelle di excel quando code lo propose anni 70 di sarò questo qui è assurdo non sfonderà mai oggi come oggi tutti i database o gran parte dei database sono fatti così allora per esempio pensiamo di avere una tabella studenti dove ci sono tre colonne una anzi quattro una chiamata nome una chiamata matricola una chiamata indirizzo e una chiamata età e quindi poi sulle varie righe ci sono franco bagnoli matricola 75 433 abitante in via picco pallina e così via dall'altra parte abbiamo la tabella dei corsi per esempio il corso numero 54 è fisica 1 per ingegneri insegnante franco bagnoli il corso numero 65 invece letteratura romanza e la insegna maria e così via infine c'è la tabella voti dove c'è la matricola dello studente l'id del corso che sta seguendo o che ha seguito e il voto ora per voler produrre un report con il voto degli studenti bisogna dire si fornisce un cognome oppure per tutti gli studenti un cognome bagnoli e poi dico bisogna prendere allora dalla tabella studenti attraverso il nome ottenere la matricola dalla tabella voti da saputo a questo punto la matricola a trovare il di corso e il voto però visto che non voglio visualizzare il di corso vado alla tabella corsi e prendo e da conoscendoli di del corso per il nome del corso evidentemente anche l'insegnante e questo qui nel linguaggio questo qui sarebbe qualcosa tipo sql si dice seleziona ovvero quelle voglio stampare nome nome corso e voto da quali tabelle devo prendere questi dati dal tabella studenti corsi e voti e come come faccio metterli insieme è bisogna che nome contenga bagnoli perché voglio magari solo quella quella roba lì e nome corso contenga fisica se voglio stampare solo il voto per fisica e corsi punto ma corsi punto il di corso che c'è un errore è uguale tra i voti punto matricola uguale a nome punto matricola uguale a voti punto matricola e voti punto ed il corso uguale a corsi punto ed il corso e quindi in questa maniera faccio questa estrazione e allora l'altra cosa che ha cominciato a cambiare in ambiente aziendale è che si comincia praticamente abbandonare l'idea del terminale stupido o anche del terminale grafico ma è sempre terminale che quando riserve è spento non sa fare assolutamente nulla e di sostituirlo con un pc eventualmente dotato di un hardware appropriato ma sempre pc e questo perché così il pc può essere anche utilizzato per fare altre cose se l'utente se ne ha bisogno tipicamente per usare un sistema un editor più potente rispetto a quello offerto dal sistema anche se poi tutto questo crea incompatibilità anche perché poi il pc alla fine costava meno del terminale per un problema proprio di mercato e ora però invece di usare cosa è possibile un emulatore terminale sul pc è ovvero rifare esattamente quello che fa un terminale solo dentro una finestra dei pc si può sviluppare un'applicazione che alcune elaborazioni li fa nel pc e quando gli servono i dati va a interrogare il serve così che il serve non deve più preoccuparsi di disegnare tutta l'interfaccia questo lo fa il pc il serve deve solo preoccuparsi di fornire i dati e quindi nascono le famose applicazioni client serve per esempio questo qui potrebbe essere una finestra che permette di interrogare un database con un'interfaccia grafica dove l'interfaccia viene gestita dal pc e i dati invece vengono dal server l'evoluzione di tutto l'ardo in particolare dei processori e le possibilità che si stavano aprendo appunto con nuovi tipi di per esempio di interfaccia più veloce così cozzavano con il fatto che lo standard delle motherboard era determinata essenzialmente dal case cioè il case originale del pc aveva certe numero di fori per non aveva un foro per il correttore del video e quindi i poveri produttori diciamo del vario hardware e delle schede madri dovevano adeguarsi a questo layout e quindi diciamo c'erano pochi valgi di miglioramento e del resto nessuno dei produttori di schede madri aveva così può dire la l'importanza tale da riuscire a imporre un nuovo standard tranne tranne la intel e quindi la intel decise che bisognava produrre direttamente le schede madri così che i produttori di case sarebbero adeguati e quindi cominciano a poter fornire per esempio vedete qui ci sono le prese usb c'è la presa diciamo per la stampante le prese per il video non so le prese per le linee seriali le prese per il mouse e la tastiera usps 2 nuovi tipi di di bassi più capaci e diciamo le prese per l'hard disk e quindi in questa maniera l'intel impone questa forse deve essere una vecchia scheda con prese diciamo connettore per vecchio bus del standard e questo qui è il connettore per la scheda video e quindi si comincia a poter avere per esempio schede per i piastre madri con scheda video integrata e così via e questo diciamo ovviamente incrementa ancora di più il dominio intel accoppiato a quello windows la miniaturizzazione dei componenti però porta anche la possibilità di avere dei veri e propri portati non più detrasportabili cose ovvero dei computer che andava la batteria per questo quello della apple era niente male come computer ce l'ho avuto funzionava era grafica colori si poteva durava abbastanza la batteria se no l'ibm tira fuori il thinkpad parecchio più robusto come si può vedere qui anche con questa con il pessimo track point mi ricordo come si chiama sono questo pippolino che doveva guidare il mouse sullo schermo era io non ho mai riuscito a usarlo e mentre appunto la intel proseguiva diciamo con la linea 386 e poi 486 e così via l'alternativa per molti per molto tempo è stato la famiglia dei ship e 68.000 della motorola che erano le ship e più avanzati ma diciamo alla fine tutti e due questi approcci sono arrivati un po alla fine perché essenzialmente proponevano delle sette distruzioni molto sofisticate si chiamano appunto distruzioni cisc ovvero complex instruction set qualcosa del genere che rendevano da un punto di vista più facile la vita e programmatore che scrivesse in assemble ma più difficile la vita a un ottimizzatore che prendesse un codice compilato e poi cercasse di renderlo più veloce inoltre queste istruzioni cisc in realtà non erano implementate in ardo e con dei circuiti ma in realtà erano implementate via micro codice ovvero alla fine si eseguiva un programma all'interno del processore in maniera da far finta che avesse delle istruzioni più complicate ora cosa per fare questo bisognava chiaramente che il processore andasse internamente a una velocità molto maggiore di quella a cui andava il resto del sistema e quindi bisognava spingere il clock del processore a velocità molto elevate ora ora quando si ora quando si cosa si spinge il clock aumentano tantissimo i consumi perché perché tutte le volte che si carica e si scarica un transistor tutte le volte che c'è una transazione una transizione bisogna buttare via delle cariche sostanzialmente oppure fornire le cariche quindi si scalda il tutto e quindi c'era bisogno di enormi ventilatori e l'alternativa era invece quella di tornare indietro fare dei chip più semplici con con istruzioni tutto della stessa lunghezza si era appunto la filosofia che si chiedeva rischi a destra the extraction set e la fare in tanti la falli bm la falla sana la farà la silicon graphics con i mix la falla hp e queste casomai che poi la strada che è fatta oggi utilizzare più unità di calcolo per esempio più unità aritmetica non ancora tanti core come ci sa oggi ma per esempio avere più unità aritmetiche perché tanta gran parte dei calcoli che vengono fatti sono lo stesso calcolo fatto su tante tanti pezzi di codice ovvero pensate tanti vettori in cui ho dei vettori molto lunghi in cui bisogna fare lo stesso calcolo per ogni componente di questo vettore e che vuol dire che se io ho 4 5 10 unità aritmetiche posso fare lavorare in parallelo e quindi vado a 10 volte più veloce e ovviamente per fare questo bisogna di organizzare per bene il flusso l'operazione in maniera da tenere sempre occupati processore per esempio usando le cache e per usare delle cache bisogna riuscire a prevedere anticipare i punti di biforcazione perché quando è che si butta via tutto delle serie la cache quando c'è un if cioè se c'è una certa condizione fai una cosa oppure fanno un'altra e quindi io risalto che non so se poi si proseguirò sul ramo di destra o sul ramo di sinistra nella cache al limite anticipo uno dei rami ma se poi usa quell'altro devo svuotarla e tirare su le istruzioni relative all'altro ramo e quindi è importante avere dei sistemi che possano prevedere quale sarà il ramo più plausibile più che si va a percorrere più di più spesso insomma e si diceva mentre quasi tutti gli altri procedono in ordine sparso verso l'architettura disk la intel continua invece a usare l'approccio cisc e però questo mi fa sì che appunto ci siano problemi di riscaldamento ci siano problemi che ora che infine per avere performance elevata bisognava aumentare il ritmo dei blocchi che di tanto non si poteva fare mentre invece d'altra parte le workstation cominciavano a diventare più competitive tanto che appunto la sana e produceva macchine a un prezzo paragonabile a quello dei buoni pc e poi si mettono anche insieme ibm apple e motorola per sviluppare anche loro il versione sys che c'è anche dei power pc della ibm che appunto la apple riesce a rimpiazzare il suo 68 mila con questo nuovo chip al prezzo di far andare i vecchi programmi piuttosto lenti ma d'altra parte la compatibilità è sempre importante non è che si può costringere l'utente a buttare via tutti i programmi se vuole comprarsi il nuovo computer cioè lo si può anche costringere ma poi è probabile che l'utente dice sì allora me ne compro uno di un'altra di un'altra ditta e e al solito l'ibm non ha il sistema operativo appropriato pronto ora la varsolta comincia a preoccuparsi perché nonostante tutti gli altri non riuscissero a mettersi d'accordo su uno standard comune erano tutti notevolmente migliori della crocchio dos windows windows 3 11 e già era un buon miglioramento quindi 95 sicuramente meglio di windows 98 quindi 95 è meglio di windows 98 e me che faceva schifo però però intanto la dec stava fallendo perché l'approccio d'ecca delle workstation che competiva che andava a competere direttamente con i mainframe rispetto alla sun che va workstation andavano a competere con i pc e non reggeva e quindi nel 98 fallisce venne comprata la compa che fin allora aveva fatto semplicemente assemblaggio di computer nonostante avesse fatto un ottimo chip io ho usato l'alpha era veramente un chip spettacolare veloce a 64 bit non scaldava era veramente niente male e ovviamente al solito non c'è intelligenza o meno capacità di farlo per quella compa che lo lascio perdere in favore l'italium della intel che anche questo non ha mai sfondato alla fine anche la coppa che viene comprata dalla dalla hp mentre il know how dell'alpha viene venduta alla intel che poi lo utilizzerà per farci essenzialmente i nuovi nuovi chip e la microsoft approfitta di questa crisi avendo possibilità di mettere le mani sugli ingegneri che avevano fatto il sistema operativo deck che era un signore operativo quello del vax appunto prende appunto in particolare dei casole che aveva lavorato sia sul chip alfa sia sul sistema operativo vax vms e sviluppa comincia a sviluppare windows nt new technology che anche se visivamente assominava windows non ha nulla a che fare con il vecchio windows essenzialmente è il web della deck con un'interfaccia grafica che ricorda windows e appunto il fatto che non abbia nulla a che fare con il dos e anche a testamento del fatto che in realtà windows nt poteva girare su tantissimi chip diversi come dal resto fanno i sistemi operativi delle workstation non è che fosse agganciato a un particolare chip e anche windows nt anche se cutler ha sempre detto di odiare unix perché unix è un sistema operativo fatto da smanettorio invece lui sosteneva che i sistemi operativi dovesse fare una grossa ditta e non appunto la gente così improvvisata e alla fine windows nt c'ha molte caratteristiche di unix e allora alla fine la intel fa il pentium che però diciamo se si va a vedere come è fatto non è nient'altro che un rischio con la possibilità di tradurre delle istruzioni sischi appunto che si vede fatto che il windows non avesse nulla a che fare con con windows nt lo si vede bene da questo grafico poi abbiamo la linea windows che diciamo ha delle relazioni sì con ibm os2 o windows nt in 4 e 2000 ma solo dal punto di vista grafico ma poi in realtà questa fine linea che va avanti per conto suo e che ha già dovuto bifurca per fare la parte server e la parte diciamo home e poi darà luogo a windows xp windows il tremendo windows vista poi windows 7 windows 8 che non è 8.1 windows 10 9 appunto come vedete scompare e poi alla fine windows 11 e questi qui sono diversamente da windows diversamente anche da macintosh windows nt è un vero sistema multitasking preemptive o preemptive ovvero che in cui i programmi possono in qualche maniera fare quello che gli pare tanto il sistema operativo che quando decide che un programma deve smettere di occupare il processore lo fa smettere cioè lo metto da parte indipendentemente dal fatto che il programma voglia o non voglia se il programma si pianta e c'è il sistema operativo che può tranquillamente ammazzarlo senza bloccare tutto mentre invece diciamo nel vecchio windows e anche nel vecchio macintosh i programmi praticamente giravano che si installavano in memoria poi a certo punto erano tutti centrati su un loop in cui essenzialmente aspettavano che l'utente facesse qualcosa in questo loop realmente ritornavano il controllo al sistema operativo era il sistema operativo quella finestra che decideva dove l'utente aveva cliccato per esempio con il mouse se era dentro la finestra dell'applicazione allora ritornava il controllo a quella applicazione che doveva essere fatta in maniera da sbrigarsi a fare le cose doveva fare con il clic dell'utente o con i o con i caratteri che l'utente aveva scritto per poi ritornare e ridare controllo al sistema operativo quindi questo qui si chiama cooperative multitasking chiaramente molto efficiente però se c'è un programma si pianta o se occupa scritto male occupa troppo a memoria non non ritorna il controllo tutto il computer si chioppa mentre invece in questi sistemi operativi più moderni no è il sistema operativo che può tranquillamente bloccare gli altri e vari task allora la apple non sfonda con il power pc mentre invece quindi va piuttosto in crisi perché vedete dal 12 per cento del mercato crolla al 2,7 per cento e nel frattempo steve jobs era andato sarà messo a sviluppare un suo sistema operativo unix next step e poi darà origine a macchina si sta operativo necco sx e sviluppò quindi tanti concetti che oggi sono quegli standard e per cui l'idea davvero uno store centralizzato in cui da cui scaricare le varie applicazioni o i vari prodotti e questa diciamo la next con varie vicissitudini però in realtà sfonda cioè vende abbastanza a livello di education sopra l'università fate conto è per esempio il primo browser quindi un'infrastruttura della rete al cern con sviluppato da team barnesley proprio su una next e si butta anche nella nell'elaborazione video perché diciamo l'idea e lei se mi gioco ce l'ha sempre avuto poi non sempre riusciva a metterle in produzione per esempio in queste next hanno sofferto tantissimo ricordo il primo hard disc in realtà era un disco magneto ottico lentissimo quindi questo rallentava tutto poi appunto non sapeva bene cosa usare come chip appunto per riuscire a fare qualcosa di con una velocità accettabile quindi vennero porto venne portato come si vede era un sistema creativo maturo quindi soltanto architetture ma diciamo non funzionava d'altra parte però aveva sviluppato anche dei server video che servivano proprio per l'elaborazione dei video e però ovviamente avevano un costo niente male insomma perché da un oggetto di suo genere già costava 135 mila dollari a cui bisognava aggiungere anche una workstation sun per gestirla era fatti molto bene erano già computer paralleli con quattro processore ma diciamo non è che tutti potessero permettere e però nel frattempo steve jobs è diventato socio di maggioranza della pizza parte lucas film e si sa come poi è andata a finire torna steve jobs alla apple che appunto lo pregano in ginocchio e si fa comprare la sua next che poi diventò il sistema creativo del del mac os x e comincia a sfornare una una serie di elettrodomestici di che finalmente sono di successo la imu la imac la ebook ovviamente come vedete il marketing comincia a sfondare e poi l'ipod poi l'iphone ovviamente ci sarà e sono oggetti diciamo di design e si vede come la epoca era arrivata praticamente quasi a scomparire ritorna ad avere quasi il 30 per cento del mercato e diciamo tutto questo diciamo non senza mal di pancia perché la apple poi riabbandona il power pc che aveva sviluppato e ritorna a intel per per lungo periodo prima di sviluppare i propri chip come ha fatto ora e viceversa un mercato che portato avanti varie innovazioni anche perché non era legato particolarmente a delle compatibilità e quindi poteva tranquillamente utilizzare delle per esempio dei chip dei microprocessori diciamo indipendentemente dalla tradizione di quello che era più valido lo usavano sono lo stesso che sono praticamente tutti usano i processori risk e quindi per esempio la silicon graphics il chip mips era il motore nintendo 64 la stessa xbox 360 usava il power pc la playstation come vedete il cominciano a svilupparsi e prendere piede chip arm e poi ora dominano tranquillamente il mercato perché sono quelle che stanno nel cuore di tu quasi tutti praticamente i telefonini e quasi tutte le le auto e il la apple pure ho usato questi rischi nel suo sfortunato newton che era un tablet anteliteram ma tutt'oggi per esempio chip di oggi apple silicon sono chip arm e quindi derivano dalla vecchia ditta inglese della che aveva fatto a corn aveva fatto il bbc micro e quindi diciamo come si sa l'applicazione diciamo oggi più utilizzata sono quelle video però di nuovo non si inventa nulla perché nel 78 per esempio andrew lipman la mt aveva sviluppato un sistema di navigazione che è praticamente simile a quello di google maps solo che non avendo l'hardware e le capacità diciamo di memoria per memorizzare le mappe in maniera digitale le mappe in realtà e le e la visione era fatta in maniera logica su un laser disk che c'era solo la possibilità di saltare da uno spezzone all'altro e di navigare all'interno all'interno di questo villaggio virtuale aspen mentre nel cinema si è nata sviluppare il cgi cioè computer graphics e imaging e in particolare tron 82 che arriva a 15 minuti di immagini elaborate usando un cry xmp oppure appunto come vedete star trek 2 giochi stellari sono tutti diciamo oggetti che cominciano a usare cgi e poi come sapete oggi è diventato un master per qualsiasi film per fare gli effetti speciali l'altre quindi l'altro campo parallelo al video è chiaramente l'audio anche qui di nuovo non siamo niente di particolarmente nuovo vedete si risale addirittura al 1928 c'era negli anni settanta anche prima forse c'era il mellotron che c'erano pezzettini di nastro magnetico che venivano diciamo selezionati quando non pigiava la tastiera e venivano sconate dalla testina magnetica però vedete già nel settanta si cominciava avere oggetti di mercato che potevano sintetizzare un un audio e poi chiaramente gli anni settanta dilagano le tastiere cioè mentre negli anni sessanta tutti i ragazzi che sognavano a chitarre lette negli anni settanta tutti vogliono la tastiera elettronica per fare come gli es genesis emerson eccetera eccetera e anche la sonorità appunto cambia inoltre con computer tipo appunto l'amica si potevano editare questi file e quindi avere nuovi nuove sonorità che infatti cominciano a cambiare sono anni ottanta proprio la rivoluzione anche del del rock o del pop perché appunto abbiamo nuove console iniziano le drum machines quelle che fanno quella percussione impossibile per un essere umano e chiaramente quello che in parallelo manca è un supporto adeguato perché bisogna passare da memorizzazione analogica quella degli lp a una memorizzazione digitale e appunto nasce appunto il cd rom ma per memorizzare digitalmente qualcosa prima cosa bisogna convertire da analogica digitale quindi bisogna decidere per esempio con quanti bit campionare il suono e questo vuol dire che certi il suono viene discretizzato e quindi per esempio nel young c'era morte con i cd perché rovinano la sonorità ovviamente la digitalizzazione permette di avere alcuni vantaggi per esempio avere un poterlo comandare con un telecomando e saltare da una traccia all'altra avere dei codici di controllo di errore in maniera che anche un graffio sul cd se non è troppo grosso non rovinava completamente i cd o non cambiava la qualità della musica e quindi avendo a disposizione questi supporti che cominciano avere una certa dimensione cd mi sembra avesse 650 mega di spazio cominciano a apparire giochi più sofisticati distribuiti con cd e quindi le console con i cd e mentre appunto nel young ce l'aveva con la qualità audio dei cd in realtà la via poi che prende mercato in particolare con l'ipod è proprio quella della compressione estrema del suono diciamo altra altro strumento degli anni 80 e 90 e il fax e anche questo è per niente nuovo perché la prima immagine in ambiente giornalistico è addirittura gli anni 20 chiaramente anche qui diciamo tutto diventa popolare quando viene adottato da un certo numero di persone e particolare dagli uffici per cui si arriva un po al paradosso per cui negli anni 80 era comune scrivere un documento sul pc stamparlo con una stampante passarlo a un fax che lo scannerizzava che lo faceva diventare digitale che lo mandava un altro fax il quale lo stampava per poi magari alla fine essere sfianerizzato ad essere messo in un archivio digitale nonostante sia una tecnologia altamente primitiva e in fondo completamente inutile perché bastava diciamo avere un protocollo per mandare le immagini con un sistema tipo mail in realtà come vedete ancora nel 2018 c'erano ancora 20 fax e la pubblica amministrazione toscana ovvero 20 20 uffici che ricevevano solo fax anche se già nel 2013 si era detto che il fax non avrebbe dovuto essere accettato nella pubblica amministrazione poi di nuovo altro aspetto sono le fotocamere digitali come come sapete con i sensori a capo charge device si comincia a poter fare delle macchine fotografiche estremamente compatte che non hanno bisogno della pellicola per la per ironia della sorte proprio la kodak che sviluppa primi modelli e poi ci rimetterà le penne perché in realtà il business della kodak era quello delle pellicole poi le macchine digitali vengono tranquillamente copiate quindi macchine digitali e memoria flash sono l'accoppiata giusta per buttare fuori le macchine analogiche per poi morire quando diciamo le capacità di fotografia sono state prese dai cellulari che non solo facevano le fotografie ma le potevano anche distribuire e quindi mentre le macchine fotografiche non hanno praticamente mai imparato a telefonare o quanto meno raramente a mandare poi le foto via wireless a qualche computer e telefonini ovviamente hanno fatto esattamente opposto sono nati in ambito comunicativo e poi hanno acquisito la capacità di fare fotografie sempre per riguardo appunto al video l'altro esigenza che c'era da quella di registrare ovviamente quindi mentre la televisione alla logica appunto si sa che funzionava scrivendo con un pannello elettronico disegnando delle righe sullo schermo e si poteva appunto è un flusso di informazioni si può pensare di metterlo sul nastro come del resto si fa per l'audio solo che c'è molta più informazione nel video che nell'audio e quindi diciamo non c'è un nastro che possa scorrere abbastanza velocemente da memorizzare questa informazione quindi bisogna inventarsi la testina rotante che scrive diciamo queste tracce corrispondente alle righe della televisione in maniera recoidale sul disco con tutti i problemi come sapete di nastri strappati che si attorcigliavano nei nei riproduttori di nuovo c'è una cosa interessante che lo stato vhs che faceva più schifo rispetto alla betamax o altri si impone perché il vhs è uno standard aperto cioè chiunque può fare un registratore o un lettore per vhs mentre il betamax no era della sony e quindi il vhs si impone c'è chi dice per l'industria del porno e poi dura un po ma poi diciamo pochi non tantissimi anni dopo viene completamente spazzato via dal dvd comprese tutte le aziende che noleggiavano le cassette poi hanno per pochi anni noleggiato il dvd e poi anche il dvd è scomparso il dvd non è niente altro che un cd iscritto con una luce a lunghezza di onda più piccola in maniera che si possano fare i pallini più densi quindi metteci più roba dentro anche qui ricordate c'è viene prima nasce il video disco se il video dvd con un formato fatto in maniera che non si potesse per esempio comprare un film in stati uniti e vedete in europa e quindi una grossa incentivo a poi piratarlo e poi dopo di appare diciamo anche la versione puramente dati in cui si poteva anche la versione scrivibile in cui si potevano memorizzare delle informazioni e il dvd chiaramente è uno dei fattori che spinge a cambiare anche la televisione perché inutile avere un formato di memorizzazione digitale per poi vedere il video in formato analogico trasformate magari a bassa definizione e quindi si comincia a elaborare sistemi per esempio che permettono di digitalizzare il tutto che quindi per esempio saltare la pubblicità per esempio tivo era un oggetto che memorizzava un po di film uno guardava cominciando in ritardo e quindi poi poteva saltare la pubblicità ma è tutto questo qui quindi essenzialmente per fare questo serve che la televisione diventi diventi digitale quindi essenzialmente si comincia a cambiare lo standard pian piano si passa dallo standard diciamo video disco di dvd poi il 720 1080 e oggi saremo al 2160 solo che la pubblicità ha deciso di chiamarlo 4k così che suona meglio similmente avviene appunto come si diceva per la musica una diffusione i cd diciamo 650 mega ovviamente in un ipod al limite ce ne poteva stare uno ma se si riesce a comprimere se ne commette di più e questo qui diciamo essenzialmente porta a sviluppare formati compressi in cui la qualità audio si riduce ancora di più però diventano piccolini file e quindi si diffondono l'industria musicale non è refrattaria perché ha paura che vengono copiati quindi insiste a farci comprare i cd e questo ovviamente di nuovo favorisce la pirateria nascono in sistemi tipo napster che di per sé non contiene file piratati contiene solo un indice a chi metteva in rete questi file in modo che uno potesse rapidamente trovarsi il file che stava cercando e ovviamente il fatto che i file fossero piccoli permette appunto di avere i lettori di mp3 portatili e in particolare gli ipod che diciamo oltre avere una grafica interessante erano anche fatti in maniera che si potesse diciamo legalmente comprare la musica compressa dalla apple con itunes e quindi nasce diciamo tutto un nuovo mercato e nascono anche podcast ovvero l'idea che uno possa registrare una come se fosse una trasmissione radio ma che venga fruita non in maniera sincrona sulla radio ma in maniera sincrona quando uno ha tempo e voglia di ascoltare l'ipod è uno dei primi esempi di un processore dual core quindi in realtà sono due processori che tra l'altro consumava pochissimo e così che si poteva portarsi veramente dietro l'ipod per ore e ore è un rischio della arm che appunto viene fatto dalla a corn che si ricorda anche dai primi pc che faceva avevano anche un approccio per cui dico invece che sbattermi a fare un'elettronica particolare con mettendo tutti i vari transistor e connettendoli tra di loro anche se non c'è tutto integrato sviluppiamo l'idea dei field gate array ovvero insieme di tantissimi oggetti che possono essere delle di flip flop delle porte logiche programmabili o degli addizionatori ne metto tantissimi su un chip e faccio in maniera che poi si possa stabilire via programmazione le connessioni tra questi oggetti quindi vengono prodotti standardizzati in grande quantità per tutti quegli utilizzatori poi gli utilizzatori se lo programma come vuole magari c'è un po di surplus qualche elemento non verrà utilizzato però la cosa fondamentale che la produzione di massa abbassa decisamente il il costo di questi oggetti altro altra cosa che torna fuori regolarmente senza mai sfondare a meno per ora è la grafica 3d anche qui di nuovo si risale a 1970 avevamo già c'erano i film in 3d con gli occhialini rossi e blu poi i film con gli occhialini lenti polarizzate in maniera che uno schermo speciale si potesse proiettare due immagini una con una certa polarizzazione e un'altra con un'altra polarizzazione che una delle quali passava dalla lente sinistra un'altra destra e si ha la sensazione 3d poco la televisione 3d c'è anche c'era anche il sistema per cui la televisione in realtà faceva vedere alternativamente l'immagine per l'occhio destra l'immagine per l'occhio sinistro e il l'occhialino che in realtà costava un bel po' in questo caso aveva dentro il circuito per cui alternativamente bloccava una delle due lenti e così si sapeva questa sensazione 3d chiaramente la l'idea probabilmente più promettente quella appunto del visore anche qui niente di nuovo solo diventano i piccini quindi dei famosi occhiali google adesso apple e magari accoppiati con qualche sensore che ti permette di sapere da che parte girata la testa se non sta guardando in su se lo stanno facendo di nuovo ancora di più eventualmente con un feedback che è tattile per cui quando io acchiappo qualcosa nel mondo virtuale sento una sensazione sulle mani e anche questo ovviamente è una cosa futuribile che è stata esplorata in tanti film di fantascienza anche se diciamo non che sia proprio il massimo ovvero vi ricordate minority report in cui il protagonista manipolava i file video su queste console virtuali muovendo le mani poi certo doveva usare un floppone per portarlo da uno schermo a quell'altro ma insomma e oppure un altro johnny mnemonic e tutti i romanzi di william gibson in cui abbiamo un visore 3d una console virtuale indossabile e una proiezione di un avatar in uno spazio 3d in cui uno fa diciamo delle azioni manipolando fisicamente a meno con una trasposizione 3d degli oggetti è il problema che tutti questi sistemi vi sono fisicamente molto demanding non deve stare in piedi deve gesticolare sopra dopo cinque minuti uno è morto però diciamo l'idea del grafica 3d può essere anche molto più semplice per esempio in giurassic park quando sono attaccati dai veloci raptor e devono riuscire a far ripartire l'elettrificazione delle varie sbarre che hanno stato disattivate al grassone essere rubato gli embrioni poi finisce male ma c'è la famosa frase della ragazzina diciamo a questo sistema unix io lo conosco che si vede queste immagini del sistema della silicon graphics che faceva vedere un file system queste caselline sono dei file che si che si poteva navigare volando è lentissimo è assolutamente non non usabile però molto grafico mentre invece dove la ricerca diciamo si spinge parecchio avanti sono nei giochi perché con le nuove console si sviluppano con le nuove capacità dei dei pc si sviluppano grai giochi diciamo 3d particolare sparatutto come doom e si ovvia alla bassa risoluzione per esempio con l'idea della texture cioè questi oggetti anche se sono a bassa risoluzione possono essere dipinti con delle texture particolari che per esempio emulano quello che poi verrà fatto a livello più alto e l'illuminazione normalmente per fare questa illuminazione vera ci vorrebbe un sistema di ray tracking però se io riesco a pitturare sistematicamente tutti gli oggetti come se fossero illuminati dall'alto mi do ottengo questa sensazione 3d a basso prezzo la cosa che ha uno dei grossi contributi di di doom è quello di separare la macchina e gestisce le interazioni da quella che rende l'immagine ovvero potete pensare che da una parte c'è la rappresentazione logica del sistema ovvero questi oggetti qui avranno delle loro coordinate e poi sarà scritto anche come sono disposti sono inclinate se stanno correndo e così via e e quindi questo però è fatto in uno spazio astratto poi passo questa immagine alla macchina di rendering che mi costruisce lo scenario questa separazione permette poi di costruirmi delle schede grafiche o schede acceleratrici che abbiano la capacità di rendere la scena mentre il computer fa l'elaborazione di quello sta succedendo una macchina grafica può riprodurre la scena sullo schermo e in particolare si racconta che in uno di questi giochi quake 3 ci apparve una istruzione che secondo la leggenda che ci fallire la silicon graphics quindi cosa succede per visualizzare queste scene bisogna fare un mucche di calcoli no perché per esempio gli oggetti più lontani sempre piccini per capire quanti e piccini bisogna fare tutta una serie di prodotti di matrice un'altra cosa succede il ray tracing e anche qui per calcolare l'illuminazione bisogna calcolare come la luce si attenua con la distanza e così via in particolare tutti questi calcoli richiede di calcolare per molte volte uno su radice di x che è una funzione da calcolare non così banale perché se uno vuol fare ad alta velocità come si fa per tutte le funzioni uno comincia con delle tabelle poi dopo la prossima nel codice di quake 3 appare una riga è scritta in questa maniera con il commento che dice ma che cazzo perché consiste consiste nel prendere una variabile x leggerla come se fosse un numero intero buttare via il primo bit sottrarla a questa strana questo strano valore qui e miracolosamente se la variabile è un numero 32 bit qui da qui viene fuori una buona approssimazione di uno su radice di x poi seguendo il link su su wikipedia c'è anche tutta la spiegazione ma insomma diciamo si lascia stare e però sicuramente questa istruzione permette di fare con un qualsiasi processore quello che fino all'ora si doveva fare probabilmente qualcosa di meglio ma con una workstation della silicon graphics e quindi viceversa invece quello diciamo che prende forza sono quelli che prende forza sono i produttori di schede video in particolare nvidia che poi ora chiaramente c'è una quotazione pazzesca e anche ati e questi schede video diventano dei veri e propri processori chiaramente c'è bisogno di un grosso ventilatore per raffreddarli hanno delle funzioni specializzate per fare trasformazioni geometri quindi essenzialmente moltiplicatori di matrici ray tracing e così via e danno origine a quelle che sono le graphics processing units processori altamente paralleli che fanno conti relativamente semplici che poi stanno alle basi oggi come oggi delle dell'intelligenza artificiale delle sene orari e quindi per questo la la invidia se la se la spazza della pasta piuttosto bene e di nuovo le console anche loro passano 3d e appare per la mano che capisce anche che qui c'è un mercato interessante tira fuori la sua xbox e a tutti gli effetti un pc solo leggeron cipe impediva di installarci sistemi operativi perché non voleva che qualcuno si comprasse la xbox che tra l'altro veniva venduta sotto costo per rovinare il mercato tutti gli altri e alla fine questo chip fu violato e ci si poteva installare linux e invece una un approccio decisamente più originale quello della nintendo che sviluppa la wii e che come sapete è un un ambiente immersivo in cui uno vede può giocare diciamo che ho fisicamente caso a tennis a ping pong con questo sensore 3d che spesso per te li poi sfuggiva dalle mani andava a fracassare la televisione e che è un approccio decisamente fisico e interessante insieme a tutti questi sviluppi ne abbiamo una vera forza rivoluzione che è quella del world wide web che mai internet internet è la parte diciamo di connessione quando è due è un'applicazione che gira su internet e è quella che permette di vedere delle pagine con un browser vedere seguire dei link vedere leggere dei testi e ovviamente oggi vedere anche dei video così via cosa fa tim barnes e lui lavora al serne se ne sempre stato un grande produttore di documenti manuali e così via c'era bisogno di poterli leggere saltare da uno all'altro perché magari c'era un rimando a uno leggeva le istruzioni c'era qui si rimanda alla pagina 42 del tot manuale e l'idea che se uno potesse cliccare e andare a vedere cosa è l'altro test e poi magari tornare indietro sarebbe stato bellissimo quindi quello che si mette a fare tim barnes li è adottare una serie di standard per descrivere le pagine quello si chiama il mark up ovvero in generale oggi tutte le pagine web sono di base di file di testo di file di testa con delle istruzioni che dicono cosa logicamente è una certa frase per esempio questo è un titolo che questo è un link e questa è una lista e così via e poi c'è il nostro client nel browser una macchina che realizza la visione del documento interpretando questi codici sulla base di un certo numero di regole che le si chiamano i fogli di stile però ovviamente la stessa sorgente potrebbe essere processata da un'altra macchina che magari fa la sintesi vocale e legge i titoli con una altra voce i link con un'altra voce di così per poter fare questo il buon tim barnes li deve appunto adattare le cose esistenti e si inventa l'html e mettere su un browser che all'inizio chiamava mosaiche perché era un peciotto di tanta roba che già esisteva e un protocollo che fosse abbastanza leggero da poter servire tante pagine rapidamente perché esistevano già dei sistemi per trasferire file per esempio il protocollo ftp ma è un protocollo pesante perché il protocollo ftp che è fatto appunto per trasferire tanti file prima stabilisce una connessione una volta stabilita la connessione si può dare dei comandi e per esempio fammi la lista dei file di prendi questo file sposta l'altro file carica l'altro file e poi a un certo punto chiude la connessione mentre invece il protocollo http è molto più semplice si stabilisce la connessione faccio una domanda lui mi fa la risposta e la connessione è chiusa quindi posso tranquillamente saltare da un sito a un altro senza incorrere nell'overhead dove chiude tutte le connessioni e quindi questo insieme porta poi a una proliferazione di oggetti di cose per esempio lo stand del mercap comincia a standardizzarsi e quindi si arriva appunto a dire ah aspetta non è che quando io dico b barra b voglio per forza dire bold in realtà è molto più corretto dire che questo oggetto qui è importante poi dopo ci penserà il foglio di stile a dire cosa devo fare con una frase importante e quindi per esempio un documento di oggi comincia a dire a questo tutto questo qui è un documento di tipo html questo è l'html c'è un'intestazione con un titolo this is a title che per esempio può andare a finire nella barra del browser della html poi c'è una divisione c'è un pezzo che potrebbe essere spostato se serve questo qui è un paragrafo è detto il paragrafo c'è scritto hello world e quindi viene rappresentato con qualche fonte scelto eventualmente dall'utente e appunto come è fatto un documento viene appunto standardizzato in quello che si chiama document object model un documento è formato da un elemento html che contiene tutto all'interno html ci può stare un elemento head è un elemento body all'interno di head ci può stare un elemento title e così via quindi è tutto un albero che rappresenta il documento e che una volta settato viene poi interpretato dalla parte visuale per renderlo sullo schermo o per rendere in un'altra maniera e la cosa diciamo la rivoluzione che vedremo dovuta al Netscape è che si metta anche un linguaggio javascript che permette di manipolare questo DOM come per esempio inserire un elemento al volo all'interno di body o cambiare il contenuto di questi elementi e così via e questo ha un grossissimo vantaggio che così quando io uso il browser per interrogare un server non la chiedevo per forza tutte le volte che come era previsto all'inizio clicco su un link o su un bottone su qualcosa del genere il server mi deve ridare tutto il documento così che io devo per forza rinfrescare tutta l'immagine ma a questo punto posso avere semplicemente una connessione per cui io chiedo al server mi dai dei dati e poi tramite javascript infilo questi dati in dei posti per esempio popolo quello che succede sullo schermo mi compilo un menu a discesa sulla base di quello che ho appena cominciato a scrivere tutte le cose che vediamo sul browser di oggi e chiaramente questo qui ha anche la sua controparte nei vari markup per cui anche questa è una cosa piuttosto antica si comincia forse con il tech che diciamo il buon Donald Knuth che era un guru dell'informatica scritta di Art of Computer Programming era incavolatissimo con la Addison Wesley perché devono far cito di errori in sua testa diciamo mi metto io scrivo da me un sistema per scrivere i testi scientifici Invental Tech che era un po' un misto tra strumento per descrivere la matematica e anche un strumento per manipolare la matematica perché si potevano definire delle macro che poi trasformavano il testo però è pur sempre uno strumento a tutto oggi usato e per esempio altri tipi di markup sono quelli che permettono di descrivere diciamo di interpretare il testo per esempio delle frasi come mettere gli asti dischi in certi punti e poi far diventare in bold che per esempio è sulla base del primo sistema che c'è ancora per editare i testi su Wikipedia ora qual è la differenza tra usare un sistema What you see is what you get rispetto a un sistema di markup che nel sistema What you see is what you get a meno che non sia fatto bene l'interfaccia c'è la possibilità per l'utente di formattare al volo certe frasi cioè uno dice va bene questa frase la voglia che sia rossa questa frase voglia che sia in corsivo e vabbè finché non scrive per cavoli suoi va bene ma poi magari mando questo via un articolo che lo mando poi a un giornale il quale giornale vuole che tutti i titoli siano con un certo fonte tutte le frasi tutti i paragrafi iniziano con un'intestazione in bold e così via e questo è semplicissimo se il documento è formattato dicendo questo è un titolo questo è il sottotitolo questo è una quoting insomma una citazione e così via se invece quello scritto in grassetto poi un altro invece me lo scrive in rosso un altro che lo scrive in corsivo tocca prendere una versora e si metta lì a mano a cambiare ogni cosa e quindi diciamo anche quando si usa word per scrivere html se si va a vedere com'è fatto si vede che è pieno di eccezioni invece che pieno di regole si potrebbe ovviare forzando l'uso dei stili word cioè non puoi formattare qualche cosa che avete fatto in grassetto applicaci lo stile appropriato però ovviamente non si fa e appunto si diceva che il servizio http è quello semplice infatti funziona con tipicamente c'è un server che aspetta una connessione quando arriva una richiesta di connessione si stabilisce la connessione il server produce una copia di se stesso il quale gestirà questa connessione mentre il server si rimette in ascolto questa gestione non fa altro che mandare le informazioni che servono e poi morire, scomparire e liberare la risorsa per velocizzare chiaramente il server può preparare una serie di repliche a cui passare informazioni se ne possono fare tante dato che il servizio http è come si dice stateless cioè non si ricorda assolutamente niente di per sé di quello che è successo sono stati inventati dei sistemi usando appunto dei cookie ovvero delle piccole pezze di informazione che vengono trasmesse automaticamente quando si fa la connessione così che il server può dire aspetta questa è una persona nuova è quella che un momento fa ha messo dei prodotti nel carrello quindi non è che di fatto da zero gli faccio vedere il carrello gli domando se vuole concludere la transazione infine, visto che l'http è nato senza nessun sistema di criptografia è possibile che uno possa per esempio se uno accede al suo servizio di home banking sniffare la password cioè il provider o uno che si mette in ascolto se via wireless semplicemente uno che sta nella stessa stanza che ha attivato un sistema per scaricare tutto il traffico che sta passando vede e si può beccare la password quindi per evitare questo si usano sistemi di cifratura che come al solito come si è detto l'altra volta funzionano usando una chiave pubblica e privata per spartirsi una chiave di criptazione e poi usano una criptazione a chiave simmetrica per velocemente passarsi le informazioni questo non vuol dire appunto che non si possa in realtà prendere delle informazioni perché per esempio visto che uno accede a un server usando un indirizzo simbolico e non il numerino IP il client deve prima andare a domandare a un domain name server se qual è l'IP corrispondente a un certo indirizzo e quindi il provider per esempio uno sa che uno sta andando su un certo sito o su un altro anche se poi il traffico viene criptato e appunto il World Wide Web è un grande successo è un grande successo che mette per esempio pensiero fa venire molta preoccupazione alla Microsoft perché si rende conto che prima di tutto che non poteva più vendere i servizi come faceva fino allora ovvero Microsoft Network così come faceva America Online vendevano delle proprie reti chiuse mentre invece diciamo su internet chiunque può vendere il servizio e poi perché rapidamente poteva permettere lo sviluppo di un sistema che rimpiazzasse completamente un sistema operativo come del resto oggi è possibile fare su per esempio su Chromebook ovvero un browser alla fine può fare quasi tutto quello che fa tutto un sistema operativo quello che mancava comunque sul web originale era un sistema per pagare perché diciamo tutte le volte collegarsi al sito della banca per fare la transazione non è così banale e poi un sistema per cercare informazioni quindi nascono i primi motori di ricerca all'inizio c'è Yahoo per esempio che è un motore che cataloga i siti non tanto le pagine i siti a mano c'è gente c'è persone che facevano un'indicizzazione se andavano a vedere cosa c'era nei vari siti si dice ah questo è un sito che parla di computer questo è un sito che parla di education quest'altro parla di scienze e così via ovviamente con l'esplosione di internet questo sistema non è che che sia praticabile quindi la DEC nel 96 ancora non è fallita produce Alta Vista che è un sistema basato sui robot ovvero dei programmi che praticamente scaricano tutto quello che riescono a trovare sul web seguendo i vari link guardano le pagine e indicezzano le pagine sulla base di un certo numero di categorie così quando uno cerca scienza gli da tutte le pagine e contengono la parola scienza il problema di Alta Vista è che visto che l'importanza della pagina è legata al suo contenuto quelli che vogliono di lottare il traffico sul proprio sito imparano rapidamente che basta mettere delle paroline invisibili all'utente umano ma visibilissime dal browser per esempio in un fonte trasparente in un fonte alto 1 e magari di colore uguale allo sfondo così che il browser quindi magari con scritto dentro scienza scienza fisica 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 così che quando cerco fisica mi esce fuori la pubblicità e questo fu diciamo questo approccio fu rapidamente spazzato via da Google che invece inventa oltre che inventare un sistema di robot di navigazione per i robot interessante per cui questi diciamo i robot di Google seguono i link per un certo periodo di tempo poi saltano a casa e questo si può mostrare che è in una maniera molto efficiente per non rimanere intrappolati infetti locali che poi hanno poca importanza e inoltre la cosa importante è che stabiliscono un meccanismo di indicizzazione per cui dice l'importanza di una pagina non è quello il suo contenuto il contenuto serve per andare a cercarlo però non è l'importanza legata al contenuto ma è legata a quanti link vanno su questa pagina e l'importanza delle pagine da cui deriva il link quindi è un meccanismo ricorsivo che quindi impara e si affina via via e i robot continuano a navigare trovano nuovi link e quindi aggiornano i pesi delle immagini e se ci pensate è una maniera per sfruttare il lavoro delle persone fisiche che ovviamente sono loro che hanno messo i link quasi sempre e quindi sono loro che hanno letto il contenuto dei siti e quindi Google non fa altro che sfruttare il lavoro volontario di milioni di persone poi chiaramente ci sono anche altre cose che inventa Google inventa o adatta via delle idee sul database distribuiti quindi può usare tantissimi computer diciamo standard come vedremo e poi una volta accaparrandosi accaparrandosi questo il mercato della navigazione inventa il paper link cioè il fatto di poter mettere pubblicità anche su altri siti che utilizzando i cookie conoscono quindi la persona e quindi usano altre ricerche fatte da quella persona per proporgli acquisti per esempio pubblicità che possono essere interessanti tutti lo possono usare e la Google ricompensa a seconda di quanti click vengono fatti su questi link e quindi in questa maniera sbaraglia tutto il resto del mercato pubblicitario fa mucche di soldi comincia a comprare altre applicazioni e alla fine fa praticamente tutte le applicazioni che possono servire quelle che prima erano app che giravano sul pc adesso diventano semplicemente delle web app cioè delle applicazioni ma che girano nel browser e poi alla fine perché capisce che il mercato dei telefonini è particolarmente importante sviluppa o usa diciamo Linux per sviluppare il proprio sistema di navigazione oltre a aver sviluppato il browser e vedremo chi l'ha copiato e viceversa dal punto di vista dei pagamenti quello che nasce sono appunto sistemi di online come Amazon ebay paypal e ovviamente sistemi appunto che possano permettere di pagare piccole cifre perché ovviamente quelle grosse si può sempre usare l'account diciamo di home banking e che altro appunto come ho anticipato un tipo di pubblicità on demand diciamo ottimizzato sul cliente possibile perché Google c'è i dati di tutti noi e appunto come ho detto le pagine web diventano dinamiche che vuol dire che il server non è più semplicemente una macchina che serve file ma è una macchina che può far partire altri programmi che possono essere diciamo staccati o direttamente integrati nel browser e così si può rendere appunto le pagine dinamiche e quindi il browser diventa uno strumento particolarmente importante la Microsoft all'inizio non si preoccupa quindi come vedete nel 95 96 abbiamo diciamo prima Mosaic che diventa ripeto dalla NCSA ma è troppo complicato e quindi perché è veramente un pasticcio quindi producono Netscape Netscape che viene venduto dall'applicazione che uno comprava e come vedete c'ha il 90% del del mercato se non che Microsoft se ne rende conto che questo è un prodotto importante tira fuori Internet Explorer lo regala insieme a Windows anzi praticamente obbliga gli utenti a installarselo anche se non lo vogliano e chiaramente visto che quello è gratis e quell'altro viene venduto sbaraglia Netscape occupa quasi il 100% del mercato per poi c'è anche tutta una causa dietro per poi venire praticamente sbaragliato e portato via dal mercato da Chrome e Chrome che appunto usa una macchina di rendering che si chiama Gecko e che può essere usata per tantissime applicazioni in realtà poi se si va a vedere sui telefonini tutti usano la stessa macchina di rendering per qualsiasi applicazione che poi alla fine sono tutte applicazioni basate su Chrome che fanno vedere delle cose diverse e chiaramente si occupa quindi diciamo dalla stessa macchina nasce da una parte Firefox da una parte Thunderbird da una parte Chrome e poi appunto Mozilla e essenzialmente questi diciamo il fallimento di Nescape favorisce l'open software perché Nescape dopo che non era più sostenibile fu rilasciato open source dal codice di Nescape in realtà fu riscritto quasi da zero e venne fuori Mozilla in ambito Unix si sviluppa il KDE che è Common Desktop Environment e un suo motore web per un browser Conqueror che nessuno usa ma che è importante perché con questo stesso motore poi si origina Safari e poi anche Chrome anche se c'ha delle delle eredità di Gecko e lo stesso motore viene usato da Kindle da Playstation Nintendo e così via e anche lo stesso Apple usa per Safari la stessa la stessa roba e quindi poi alla fine oggi come oggi abbiamo diciamo tutto internet dominato sia da diciamo dei redditi di Gecko e di WebKit e appunto il fatto che la pratica scorretta di di Microsoft fosse quella di veicolare Internet Explorer porta a una grossa di battaglie legali che poi alla fine portano alla fine all'estremissione di Bill Gates che fa una figuraccia e praticamente abbandona la direzione attiva di Microsoft e si ritira a fare beneficenza e la concorrenza insomma queste sentenze obbligano a separare sistema operativo applicazioni browser perché diciamo se no è troppo scorretto fare quello che può del resto ha sempre fatto anche la Apple e così si arriva al 2000 la bolla speculativa il crollo delle dot punto com ovvero fino a pochi anni prima qualsiasi cosa avesse a che fare con Internet trovava finanziamenti a Google per esempio intorno a questi 98 99 abbiamo la quotazione di Red Hat una ditta che fa Linux in borsa che qui è un mucchio di soldi e abbiamo regalato una serie di azioni a Linux Torvald che si ritrova improvvisamente milionario nel giro di pochi anni queste azioni crollano a un livello che forse è più normale e visto che abbiamo parlato di Linux anche qui si ritorna abbastanza indietro tutto nasce con Richard Stallman all'MIT che se ne va via perché dice no il software non va venduto l'hardware sì ma il software no e quindi se ne va via per fondare una sua compagnia e dice ah mi voglio diciamo il sistema operativo del futuro è Unix ma non si può usare quello proprietario perché per esempio la Tinti che è quello che aveva il Unix più facile da usare faceva causa a tutti quelli che lo copiavano e quindi Starman però si rese conto che c'è già un bel po' di componenti del diciamo del mondo Unix erano liberi in particolare il sistema grafico quello delle finestre per Unix il sistema tech e così via lui iscrivesse un editor Emacs un buonissimo compilatore che a tutt'oggi è un compilatore molto usato che è quello GNU sì sì e però non riusciva a scrivere il kernel cioè il punto centrale del sistema operativo anche perché lui voleva farlo seguendo il modello diciamo moderno già negli anni 90 il modello a microkern che è quello per Macintosh e che penso sia anche quello di Windows NT mentre lui stava qui che ancora tutt'oggi non so se questo hard è stato poi rilasciato il buon Linus Torvald che aveva 22 anni si era comprato un 386 non riusciva a farci girare per bene non era soddisfatto di un micro Unix che veniva usato lì all'università e dice basta me lo scrivo per il conto mio si mette lì fa un kernel monolitico c'è una grossa diatriba per esempio con Tannenbaum perché diciamo il kernel monolitico è roba degli anni 70 al giorno d'oggi non si può fare non durerà infatti a tutt'oggi lo troviamo da tutte le parti e quindi ce la fa si collega a questa BBS insomma a questo archive server mette lì il kernel è libero per tutti si sviluppa una comunità di volontari che cominciano a scrivere device driver a portarlo di qua e di là e chiaramente c'era già tutta l'operazione fatta da Stallman che aveva già sviluppato tutte le varie applicazioni tutte le varie utilities e quindi rapidamente si riesce ad avere un quelle che si chiamano distribuzioni cioè dei pacchetti all'inizio floppini poi cd rom e ora via internet che permettono di installare Linux su qualsiasi device o quasi e questo dà luogo anche a tutta una nuova filosofia di sviluppo ben diciamo descritta da Eric Raymond nel suo libro Cattedrale Il Bazar dice nel modello a cattedrale quella diciamo alla WMS vettevano così il programma viene realizzato da degli esperti dai progettatori diciamo che disegnano l'architettura del sistema e poi i vari pezzi vengono affidati a tutti i vari sviluppatori no e quindi tutto viene fatto per bene però l'evoluzione è molto lenta e bisogna stare diciamo bisogna essere ben certi che tutto funzioni prima di lasciare una nuova versione e gli stessi programmi che fanno parte poi del mondo libero come Emacs o il compilatore chip si basano su questo modello mentre il modello a Bazar il codice sorgente è sempre libero chi lo vuole ci può mettere le mani sopra chiaramente deve interagire con gli sviluppatori ma se vuole può farsi una sua copia e lavorare sulla copia come si dice un fork e quindi chiunque può lavorarci la richiesta ovviamente è che uno si legga tutto il codice prima di che ci dice le mani non solamente il suo pezzettino e quindi questo è un modello diciamo nuovo di sviluppo che tra l'altro si coniuga con un'iniziativa che nasce da tutta altra parte mi sembra in Australia che è quella di promuovere lo sviluppo di piattaforme per cui chiunque può scrivere delle roba e interagire con gli altri e quello che si chiama il wiki wikiweb wikiwiki è una parola aborigena polinesiana credo che diciamo in cui diciamo con una sintassi molto semplificata anzi inizialmente si usavano per fare il link queste parole cammello maiuscole nel mezzo e bastava scrivere e diventavano link e quando ci si ricava sopra che erano vuote si creava la pagina di destinazione quindi diciamo è una scrittura top down non che si fanno prima le pagine e poi si fanno i link alle pagine ma prima si fanno i link e poi si fanno le pagine e e questo qui è il modello che è stato poi sviluppato per i wikipedia utilizzato per i wikipedia dove appunto c'era un markup molto semplice anche se si può usare un editor visuale e anche qui c'è un modello dietro in cui diciamo rivoluzionario in un certo senso perché chiunque può prendere e scrivere qualcosa su wikipedia perché non si riempie di schifezze è un problema che è stato studiato da tante persone non si riempie perché c'è un mucchio di persone che ci stanno dietro e quindi quando uno scrive una pagina di solito si mette tra quelli a cui arrivano notite o tre volte qualcun'altro cambia quella pagina e quindi se qualcun'altro scrive delle stupidaggini rapidamente un autore o i curatori se ne accorgono e cancellano e magari segnalano che quell'altro è uno scorretto e quindi wikipedia cresce anche se nessuno garantisce che da qualche parte un po' isolato non ci siano delle enormi stronzate e cresce tantissimo è stata dimostrata che è molto più affidabile delle delle gelopedie quelle tradizionali e e quindi diciamo sicuramente un esperimento di gestione collettiva estremamente interessante basta così per oggi e alla prossima ciao ciao ciao